Salve sono Rita Vicanzoli e sono tra gli ideatori del progetto Abacus Online della società Nottinote. Il progetto è un progetto pionieristico nato dal 2001, il primo esempio in Italia di didattico online chiaramente applicato all'ambito scolastico, oltre che alla formazione come poi successivamente si è in qualche modo declinato. Per quanto riguarda il premio è per noi veramente importante un riconoscimento che arriva dopo tanto tempo di sperimentazione e di impegno, soprattutto in termini di innovazione ma sempre con un occhio particolare alla parte che riguarda la persona, il discente, l'aspetto anche proprio umano e didattico perché il nostro principio è che la tecnologia è strumentale ad apportare sicuramente anche un qualcosa che concerne l'inclusione perché è veramente oggi determinante e quindi se vista in questi termini dove veramente la persona, ogni singolo attore del percorso formativo è protagonista ed è chiaramente in qualche modo anteposto agli aspetti tecnologici, l'obiettivo è più facile sicuramente da raggiungere. Per quanto riguarda, ecco ripeto, il premio è veramente un importante riconoscimento che arriva dopo tanto tempo e ne siamo veramente orgogliosi e ringraziamo la Regione per questa inaspettata novità.